L'amministrazione di Pozzallo annuncia guerra all'impianto di biogas in fase di realizzazione alla periferia della città. E' l'esito del Consiglio Comunale aperto sull'argomento svolto ieri pomeriggio a Palazzo Lapira, incontro che ha fatto registrare una grande partecipazione di associazioni, personaggi politici, cittadini e professionisti. Il Comune in via formale presenterà ricorso al Presidente della Regione, Nello Musumeci, per impedire che l'impianto, che dovrebbe sorgere in contrada Zimardo Bellamagna, veda mai la luce. Intanto però il progetto è stato approvato, un rilascio del titolo autorizzativo che tanto sta facendo discutere le comunità di Modica e Pozzallo per autorizzare la realizzazione del progetto che prevede circa 8 milioni di euro di investimenti. Il Comune di Modica ha attivato la procedura della conferenza di servizi, strumento propedeutico a raccogliere i pareri degli enti preposti. Il 15 luglio di quest'anno, a distanza di 11 mesi dalla presentazione del progetto, il SUAP del Comune di Modica ha autorizzato l'impianto alla Biometano Ibleo. Dopo qualche giorno l'ente ha rilevato la necessità di dover annullare il provvedimento per non meglio specificati aspetti formali non congrui con le finalità preposte e ha autorizzato nuovamente l'impianto in via definitiva l'8 agosto, stavolta dichiarando la pubblica utilità e l'urgenza di intervento. Su quanto sta per nascere però, come accennato, un coro di proteste si sta allevando dal Comune di Pozzallo da tempo contrario a quanto autorizzato dalla vicina Modica. A rischio c'è l'ambiente, le falde acquifere, la bandiera blu. Per questo ecco il ricorso formale al governatore Musumeci con la speranza che si stoppi il tutto, il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna inoltre ha annunciato chiaramente che è intenzionato a mettere in atto personalmente ogni iniziativa per impedire che inizino i lavori dell'impianto di biogas. Presa di mira anche l'amministrazione di Modica che secondo i presenti ieri si sarebbe dovuta confrontare con il Comune Limitrofo ed interessato all'impianto ovvero proprio il Comune di Pozzallo non coinvolto invece nel rilascio dell'autorizzazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.